Il Festival internazionale di videoarte The Scientist nasce a Ferrara nel 2007 da un'idea del futurista Roberto Guerra arricchita da alcune proposte mie e del videomaker Filippo Landini e la prima edizione viene organizzata nel breve giro di 3-4 mesi quindi con tutte le lacune del caso ma già avevamo notato già da questa prima edizione nei tre giorni di festival veri e propri che comunque Ferrara era ricettiva di nuovo all'arte elettronica, alla videoarte anche perché Ferrara è stata una delle grandi capitali della videoarte Nel 2008 abbiamo creato la nostra associazione culturale che si chiama Ferrara Video e Arte e abbiamo fatto la seconda edizione proprio con questa nuova associazione La seconda edizione del Festival The Scientist è stata fatta in collaborazione con In Video di Milano il notissimo festival di videoarte per quanto riguarda la videodanza abbiamo avuto come partnership il coreografo elettronico di Napoli abbiamo creato una sinergia nella sezione universitaria con l'Accademia di Belle Arti e di Design di Ginevra quindi in qualche modo abbiamo già dalla seconda edizione, dal 2008 il festival è cresciuto in qualità e sicuramente in sinergie Nel 2008, curata dal noto esperto Marco Gazzano, nella storica abbiamo per esempio mostrato i grandi maestri della videoarte quelli considerati i padri della videoarte, quindi Pike, Vostel, Iva Sulca un'altra peculiarità è la presenza per esempio della sezione universitaria che nasce nella seconda edizione, nel 2008 di The Scientist ma è una direzione sulla quale noi organizzatori, io in particolare che provengo dall'ambito universitario io ci tengo moltissimo perché l'unione università, produzione video, studenti, arte contemporanea sta dando dei frutti veramente molto interessanti L'Associazione Ferrara Videoarte da me è guidata si è presto a organizzare la terza edizione del Festival Internazionale di Videoarte The Scientist che si terrà a Ferrara nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2009 vi lascio infatti con alcune immagini in anteprima di un video che farà parte della terza edizione del Festival The Scientist Grazie a tutti